Rifiuti di ogni genere, dai divani ai giocattoli che i bambini non usano più, perfino un cavalino meccanico che al posto della testa ha un teschio di un animale, una discarica a cielo aperto nell'ex macello comunale di Bitonto che si affaccia sul parco naturale di Lama Balice. Anche a Bitonto torna l'iniziativa nazionale Puliamo il mondo di lega ambiente a salvaguarda della lama, dove confluisce il torrente Tiflis che trasporta le acque che dalla murgia arrivano a mare, ovviamente se non trova rifiuti sulla sua strada. Quello che i volontari hanno mostrato è un percorso naturalistico trasformato in pattumiera, complici la maleducazione di chi sporca e non solo. Nella sezione plein air vorremmo intanto recuperare tutti i progetti esistenti che sono stati già fatti in questi ultimi 10-15 anni su questa struttura, collegandoli al parco naturale di Lama Balice e in più questo spazio rinnovato e recuperato potrebbe diventare sicuramente una terrazza a cielo aperto dove organizzare iniziative di sensibilizzazione culturale. Questa struttura ci aiuta a vedere Lama Balice nei fatti e non nella teoria, ma allo stesso modo è un punto di partenza anche per poter mettere insieme le diverse realtà che si occupano dell'ambiente per poter portare avanti un progetto comune di valorizzazione di quella che è la nostra Lama Balice, che tutti quanti ne parliamo, ma che di fatto ci sono situazioni che rendono impossibile la sua valorizzazione.